E' stato presentato ieri il libro di padre e figlio, l'Irpinia ed il basket, i primi 70 anni di Scandone. Il testo, scritto da Generoso Piccone, Giuseppe Matarazzo e Giovan Battista La Rosa, rivisita i 70 anni del club biancoverde attraverso interviste e racconti di un'altra epoca ed emerge la differenza tra i tempi che furono ed il professionismo attuale. La sala grasso della provincia si è riempita di atleti del passato e figure storiche del basket velinese, tra queste Ciro Melillo e Menotti Sanfilippo che sono personaggi di riferimento del basket irpino. Il libro vuole essere uno spunto di riflessione per ramendare da dove si è partiti senza tralasciare l'esigenza ed il dover far meglio investendo innanzitutto sui giovani che devono essere educati fuori e dentro al campo da tecnici adeguati affinché l'investimento sia propizio. La scandone è una realtà, non una favola, come ha dichiarato il presidente Melillo ed è riuscita a creare un legame con la città, un senso di appartenenza, un punto di riferimento per tutti, come ha dichiarato in chiusura di presentazione Generoso Piccone per un sogno che deve continuare e che bisogna pianificare. Oggi dopo 70 anni, nel senso che dopo 70 anni, dopo una storia così lunga, dopo la cosa che dura di più nella provincia di Avellino in questo secolo, ci aspettiamo che il calcio strutturi meglio il basket, strutturi in maniera definitivamente pianificata la sua vicenda. Nel senso che ci piacerebbe appunto che il basket, ma non soltanto la scandone, lo sport, dunque il basket in questo caso possa diventare un luogo di coinvolgimento e di estensione anche della distribuzione delle risposte, le domande che vengono fuori dalla società. Cioè che soprattutto poi che questo basket, essendo comunque un'azienda, perché questo è poi la fine della fiera, dopo 19 anni di seriali, il basket si distruttura come un'azienda, proprio perché è una cosa che è un'azienda irpina, dunque un'impresa sportiva che nasce in Irpinia, investe il meglio anche che un'azienda di questo tipo può avere.